Ritrovamento di oggi, questo piccolissimo bruco disfinge del tiglio. L'ho trovato che vagava per terra e siccome rischiava di essere calpestato l'ho preso e l'ho spostato sulla pianta di cui si nutre, che come dice il nome stesso è il tiglio. Adesso il bruco passerà le giornate a nutrirsi. Maturando poi raggiungerà la grandezza di circa 6 cm e cambierà colore. Passerà da questo verde a un violetto. Dopodiché scenderà dalla pianta per cercare nel terreno un posto sicuro in cui impuparsi e poi svernare.